EWC, Portuguese and Wound, eleganza e precisione. L'EWC Portuguese ha origine nel 1939, quando due commercianti portoghesi fecero una richiesta speciale alla EWC, volevano degli orologi da polso che avessero la stessa precisione e affidabilità dei cronometri da marina, usati per la navigazione. L'EWC accettò la sfida e creò un orologio da polso con un movimento da tasca calibro 74, che aveva un diametro di 43 mm e una riserva di carica di 40 ore. L'orologio aveva un quadrante semplice ed essenziale, con numeri arabi, lancette a foglia e piccoli secondi a ore 6. L'orologio fu battezzato Portuguese, in omaggio ai committenti portoghesi. Nel 2005, l'EWC presentò il modello Portuguese and Wound. Il quadrante era disponibile in bianco o nero, con numeri arabi, lancette a foglia e piccoli secondi a ore 6. La cassa era in oro rosso o acciaio, con un diametro di 44 mm e un fondello trasparente in vetro zaffiro. L'orologio era abbinato a un cinturino in pelle di allegatore. Nel 2015, in occasione del 75esimo anniversario del lancio del Portuguese, la EWC lanciò il modello Portuguese and Wound 8 Days, che era una versione ancora più evoluta e raffinata del precedente, con una riserva di carica di ben 8 giorni. Il quadrante era disponibile in bianco o nero, con numeri arabi, lancette a foglia e piccoli secondi a ore 6. Inoltre, l'orologio aveva una finestrella sul fondello trasparente in vetro zaffiro, che indicava il livello di carica residua. La cassa era in acciaio o in oro rosso, con un diametro di 43,2 mm. L'orologio era abbinato a un cinturino in pelle di allegatore.